l'arena di fifa ecco praticamente qua andata anche una zona dove potete sparare a scresciate poi iniziate a sparare uscire di bersaglia automaticamente non dovete tivare nulla uscire di bersaglia c'è una mia che fa cagare headshot vabbè venire ma ancora fosse una persona vera vabbè venire ma ancora fosse una persona vera e mentre poi qualcos'altro c'è se si va di sopra si trova un computer al piano di sopra la zona diciamo come si può chiamare la zona ah non so cosa vuoi dire ma la zona è un cazzo ecco ecco quando non so cosa dire no praticamente qua c'è un oleogramma con praticamente questi affari rialzati c'è tipo credo che sia un terreno non lo so qua trovate il mac di titanfall copiato vabbè e poi oltre questo momento nient'altro e poi non c'è nient'altro a parte la cooperativa e qua praticamente per tornare nel menu basta cliccare esca se i foggi si è già andati le opzioni sono povere casca e se non vabbè ah si posso selezionare anche il mirino si l'avevo anche già detto e niente dai andiamo a fare un'altra partita partiamo un'altra partita in un'altra modalità proviamo dominio facciamo vedere un po' come proviamo dominio dominio devo dire che comunque lunghina eh dominio sì dominio devo dire che comunque lunghina team deadmatch free for all è mai giocata no no fai storm invasion no storm storm ma sono pieni c'è 4 di 16 ma 4 di 16 non giochi 16 di 16 14 eh storm non ti viene diciamo un deadmatch eh si perché se no prova a creare un game ma fai quella su farm sunset all'inizio farm sunset ma la mappa farm mele mele 97 game room si vai join joining si andiamo a sbloccare il mirino e noi dobbiamo sbloccare il mirino ready quando siete pronti basta che mettete ready ah fagli vedere come si può selezionare l'esperienza come dicevo prima da dare al gioco selezionare 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 l'area se praticamente è a parte che ho fatto di vedere comunque sotto cioè allora se massiere stavolta ma si è perché ti sei primo ma non sono primo son terzo son terzo ora sei terzo e i primi son terzo sa e dove mai mi hai visto prima manca l'acqua di un pire ci siete dobbiamo ricordare un certo t non potete capire si da scomunica da parte del topo si no vabbè non esageriamo però no non esageriamo no 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 diciamo infatti come stanno eh si no vabbè praticamente siamo volti a fianco stavo giocando a code stavo anche registrando tra l'altro di colpo scontrollateca praticamente la tazza mi cade per terra con più di metà dentro eh vabbè potete capire la mia reazione ecco ve lo faccio intendere ecco qua dobbiamo dire che comunque partenza è un po' lente ecco io perchè ste mappe quando l'ho mai vista la prima volta ci gioco facciamo vedere come si sale come vedete come si sale non sale nessuno per ora però vabbè io sono salito dove sei? eh sondi qua io sono salito dove sei? eh contato mi chiamano al telefono scusate un attimo da c'è sto registrando sembra che sto parlando con un cascassi dimmi poppy dimmi cosa c'è dimmi poppy dimmi cosa c'è aspettato un attimo che scuola ok ci sono scusate l'interruzione allora vediamo dove sei eva allora son partito era mi vedi allora son partito era mi vedi allora praticamente noi ci mettiamo qua vedi dove sei eva? non ne venga capito eh no vai ci sono siamo due cretini noi mi sostegno adesso andiamo qua siamo due cretini noi mi sostegno eh fai vedere quelle dita questo qua ha due dita questo qua ha un dito solo praticamente adesso prova a salire in questo caso qua sale solo lui e io rimango qua sotto aspetta aspetta ok ho deciso scendi allora io invece adesso metto le due dita praticamente lui sale e vedete mi danno a mano a salire anche a me cosa che non si vede neanche in un gioco a pagamento facciamo qualche nome neanche in code eh in battlefield un certo call of duty un certo beh seguiamo un po' farei però qua bisogna dire che comunque i cecchini i fucili di precisione sono overpower c'è due colpi si uccidono c'è due colpi si 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 poi vi faremo vedere una statistica del danno che può fare un fuccio di precisione vi giuro che è davvero impressionante c'è due colpi c'è due colpi c'è due colpi si ho lanciato la granata ma non è ancora scoppiato si si aspetta ah se riusciamo a portare una partita bella come quella di prima non ci credo sto facendo 4-4 sto facendo 4-4 c'è due colpi c'è due colpi ragione questo un po' spera che noi qua abbiamo mettere le connessioni a quanto schifo si chiama italia eh lo so si chiama italia giuro che se un giorno diventerò presidente d'italia vicepresidente d'italia si c'è da basso si deve essere così d'italia vabbè c'è dai non lo sappiamo neanche noi come organizzate l'italia non lo sappiamo neanche noi come organizzate che non lo sappiamo neanche noi non lo sappiamo neanche noi non ce ne insegna a scuola ah no no a scuola non riesci insegna ai logaritmi che so più importante non ce ne insegnano a scuola c'è gli incubi e stanno toondoro vieni che tra l'altro vi chiedo gentilmente ripetizione se qualcuno di voi sapesse qualcosa ho fatto 2 kg da granata Quando farei doppia kill con soltanto la pistola, mi chiami Quando farei doppia kill con soltanto la pistola, mi chiami Con le pistola Con la pistola Con la pistola No, farò una kill a fare Ma che l'ho fatta? Sì, io non l'ho comprato ma non ci penso neanche a comprare una pistola Sì, io non l'ho comprato ma non ci penso neanche a comprare una pistola Tra l'altro una cosa che mi piace è che il tempo è variabile Vedete che prima c'era il sole Tipo io in sta mappa qua ci ho giocato Al buio Io in sta mappa qua ci ho giocato Al buio Sì, l'unica cosa No, su questa qua ci ho giocato Come vedete adesso c'è il tramonto Infatti la mappa sta diventando un pochino più scura come colori Infatti la mappa sta diventando un pochino più scura Però devo dire L'unica cosa Una pecca forse è che No, le mappe Il server ti offre una mappa ed è solo quella Cioè se voi scegliete Det match a squadra su questa mappa qua che è farm Sì, la squadra su farm Per finché non morirete Sì, si, per tutta la vita Non verete Finché non chiedono serbato Vito, rimasto il lag L'acqua Si, si, si presenta Ma ci, si, si presenta Ma ci, si, si presenta Si, si presenta Sì, si presenta Sì, si, si presenta Sì, si, si presenta mamma è l'atto perché sono su facebook ma no risonso di isambiare il cecchino 10 9 8 7 10 arroba il cecchino ecco qua venire a mano e sa il suo sacco giuro ccc il s gt e non sono morto vero è morto ok si giocosti da qua ari la stessa cosa già qua la ricadente la ricadente via tra l'altro c'è buio si vede un cazzo a me piace proprio per questo a me stai lì come come mente ci chiamavano camper su code qua la parola camper non esiste camper su code qua stai ancora tanca te stai ancora tanca te saliamo di cuova saliamo di cuova che facciamo l'altra cosa che spazia il mirino il mirino è ho sentito un colpo che mi ha carezzato i capelli nel gioco mi ha carezzato i capelli nel gioco ah mi ha dato io col giochino sono la morte eh io no l'impiango battlefield bad company 2 ragazzi che gioco eh questa eh play 3 ce l'ho però per il 3 eh si eh play 3 ce l'ho per il pc ce l'avevo anche per il pc ma oh niente non ne prendo uno ah due le ho uccisi però so già che morirò breve però so già che morirò breve infatti provato ften ho fatto devo dire che poi proiettile volte possono anche i muri se ne esercizio perché cazzo a momenti stato sono anche in qua mamma minilio ho fatto salire una cosa cosa qua mamma min signo sto salendo adesso devo vendicare non sto stare devo vendicare se mi vendicavo con la granata se mi vendi tanto lo so che sei la bosta ma che cazzo che spazio tra l'altro perchè c'ho la webcam attiva dove mi siete? dalla webcam? dalle cuffie dalle cuffie penso e c'ho sta webcam attiva perché la gente così scema che se gli lancio una granata non si può 2 kg una con la granata una con la pistola 2 kg una con la granata road to kill l'occasione buona per un road 3 kill penso che a... no sono arrivato a 4 sono in guardabile con c'è non cambio arma perchè finora che tu con la migraiatrice cazzo eh beh ve lo dico qui io non farò mai video con il medico ve lo dico qui boom esploso perchè il medico usa soltanto fucili da cecchino da... da pompa da.. da pompa ma no è morto ma no è morto ma no è morto ma mi no ma mi no su ma mi no su ma mi no su quelli ma mi no su quelli senti sapere ma mi no su quelli fa come lo impari d'inglese a londra eh siamo scuse come lo impari d'inglese a londra eh siamo scuse no no ma eh eh oh una claymore è la prima che veda in tutto il gioco oh una claymore è la prima che veda in tutto il gioco tra l'altro ora 8-14 13-16 pollicecco 13-16 abbiamo perso abbiamo vinto abbiamo perso abbiamo perso è arrivato te porca bellina mia sono anche secondo mannaggia a quelli sono anche secondo usate la tosse usate la tosse messaggino cos'è un altro messaggino ah ebay aspettate che ebay io sono un grande appassionato di me lo faccio mo lo faccio mo mo lo dice una mucca mo senza offesa per quelli che parlano così era soltanto per ridere questo magari qualcuno si offende ho sbloccato il mirino reflex ma porco te io sono ma come sale dai cosa facciamo per questo video tutto diciamo arriviamo alle conclusioni se no qua puoi rendere il caricamento eh sì eh sale sale eh sì eh sì vabbè ci vediamo la prossima partita prossima partita che arriverà spesso no mi mancano 10 punti per sbloccare il ref no mi mancano 10 punti vai chiudi te o chiudo io io ho iniziato chiudi te chiudi te e per questo video è tutto ragazzi spero che vi sia piaciuto se fosse così se diciamo di lasciare like eh beh direi questo qua è ovvio cioè dovete lasciare mille mila like ne basta uno ne basta un like e sono contento un commento un commento mi chiami mi rende felice arrivare a casa aprire prende prende più felice il commento che il like sì troppo invece scherzate ma un'utente ha commentato io sono subito andato a vedere chi era fate un po' voi gli ho anche risposto subito che io piuttosto ci dedico anche del team senti che mi hai scritto in chat no tutta la gente che scrive tutta la gente che scrive tutta la gente della cosa della room della stanza tutta la gente della cosa allora niente ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se fosse così vi invito a lasciare il like cioè vi invitiamo a lasciare il like il commento l'iscrizione l'iscrizione anche quella lì ci starebbe e ci vediamo alla prossima detto tutto no magari se gli dicevi ciao era un po' meglio no no magari se vi scrivete al gioco se noi facciamo anche delle partite magari se vi scrivete al gioco se noi facciamo anche delle partite alla prossima ciao ciao alla prossima bella ciao a tutti i